le prime ipotesi. Conto la rovescia a Milano per l'apertura del Museo del Novecento oggi trasferito dalla Villa Reale, il quarto stato di Pellizzi da Volpedo sarà uno dei simboli del nuovo spazio espositivo. Buonasera dalla telegiornale della Lombardia, la televisione che cambia, domani mattina si concluderà il passaggio al digitale terrestre nella nostra regione. In queste ore si sta lavorando al ripetitore della RAI da Montepenice, Umberto Martini. 1.460 metri sopra il livello del mare, il centro RAI di Montepenice trasmette il segnale in Lombardia, Piemonte Orientale, Emilia Romagna e Veneto. Con la sua antenna alta a 150 metri è l'impianto RAI con il più elevato bacino di utenti in Italia. Domani, come sapete, ci sarà lo switch-off definitivo, vale a dire che il segnale verrà trasmesso in maniera digitale e non più analogica. Comincia dunque l'era digitale e sono possibili alcuni disagi nella ricezione del segnale televisivo nei nostri televisori. L'ingegnere Antonello Sedini di RAI-Way ci spiega cosa è necessario fare per evitare e prevenire questi disagi. La prima cosa è ovviamente disporre di un decoder per il digitale terrestre o di un televisore equipaggiato con un decoder integrato. La seconda cosa che raccomandiamo è risintonizzare i televisori e i decoder per ricevere i nuovi canali sulle nuove frequenze che verranno trasmesse da domani. E noi proprio domani nel corso di Buongiorno Regione seguiremo in diretta lo switch-off, quindi l'appuntamento è per domani alle sette e mezza, sempre in diretta dal centro RAI di Montepenice. E proprio domani partiranno anche le trasmissioni, sempre da Milano, di RAI 5. Linea allo studio. Il passaggio al digitale dunque con possibili problemi tecnici a casa, lo abbiamo sentito risolvibili risintonizzando il televisore o facendo intervenire l'antennista. Vediamo la situazione nel Comasco. Lei ha problemi con la ricezione dei canali? Diciamo sulla televisione nuova che ho comprato, no. Sulle televisioni che avevo, diciamo, più da tempo, sì, il decoder non funziona, non riesco a vedere i canali. Può essere un problema di cavi interni all'appartamento, uno funziona meglio, l'altro magari è malandato e riceve male il segnale. Il passaggio dall'analogico al digitale terrestre non è esente da qualche problema, ma anche da qualche polemica, forse di troppo. Nel Comasco, passato al nuovo sistema di trasmissione il 18 novembre, molti lamentano di non riuscire a vedere i canali RAI. Il problema non sta nell'assenza di segnale, dicono gli antennisti. Per chi vive in una casa indipendente è sufficiente risintonizzare il televisore. Nei condomini, invece, è diverso. I problemi nascono a livello condominiale, dove esistono a monte delle centraline a filtri, sui quali prima venivano selezionati i canali analogici. Adesso, col passaggio del digitale, le frequenze sono completamente cambiate e quindi non si ricevono più i canali RAI. Dunque occorre sostituire le centraline, se sono troppo vecchie, oppure adattarle alla ricezione dei canali digitali, interventi che, secondo i tecnici, possono costare tra i 500 e i 1000 euro. E in attesa di domani, giorno dello switch-off definitivo in tutta la Lombardia, per gli installatori del Comasco, il lavoro non manca. Quante chiamate al giorno? Sono parecchie decine di chiamate al giorno, anche se poi non si tramutano in lavoro effettivo, perché molte chiamate sono più di informazione per adesso. Quelle di lavoro effettivo le vedremo nei prossimi giorni. La protesta degli studenti oggi, anche a Milano, feriti e contusi durante i tafferugli con la polizia, i ricercatori passeranno la notte sul tetto. Ci hanno chiamato i ricercatori da fisica, ci hanno detto che erano saliti sul tetto, hanno detto prendiamo la metropolitana. Stavamo scendendo, a un certo punto ci hanno detto no, non scendete, e ci hanno chiuso a tenaglia sull'imbocco della metropolitana e ci hanno caricato. Perché hai il ghiaccio? Eh, perché ho preso una decina di manganellate alle spalle. Tafferugli, manganellate e qualche contuso. Sfilano universitari e liceali. Uno studente del Manzoni finirà in ospedale. Non è fermato. È un libro cittadino e non è fermato. Basta con queste delegazioni. Non possiamo parlare. Oggi contro la riforma Gelmini sono scesi in piazza in 500. Un flop, secondo il vice sindaco Decorato, perché rappresentano solo lo 0,5% degli studenti milanesi. Condanni alla collettività...